la domanda posta dai farisei la poniamo anche noi a gesù oggi tu chi sei quel io sono sottintende io ci sono o meglio io sono sempre con voi e questo il nome che dio grida peso ad una croce la sua divinità e la sua gloria si comprendono veramente solo guardando la croce grazie gesù per averci amato così tanto da venire incontro alle nostre debolezze per averci donato te stesso senza misura il tuo dono ci invita a divenire noi stessi dono per gli altri anche noi dobbiamo essere disposti a ripetere all'altro io sono con te io sono vicino a te donami la sapienza e la tua pazienza o gesù per affrontare tutto con magnanimità di spirito cosa rappresenta il crocifisso per te nei momenti difficili perdi la fiducia nella presenza salvifica e sanante di dio